Nome, cognome, è davvero che è stato tuo nonno a spingerti verso il ruolo di portiere? Alessia Gritti, sì, è nata da lui la mia passione e l'ho coltivata col tempo. Ricordi la prima volta che hai indossato i guantoni da portiere? Tanti anni fa, per gioco, nel parchetto vicino casa si giocava con tutti i maschietti. Tu l'unica femminuccia va in porta e da lì hanno capito, hanno visto che comunque sia non era tanto facile farmi i gol. E ho portato avanti questa passione. Se ti dico Gigi Buffon? Se vedi Gigi Buffon ti dico idolo, ti dico esempio da seguire per chiunque voglia approcciarsi al ruolo. Da Juventina ti dico Gigione tutta la vita. Sei un'appassionata di cinema, qual è il film che rivedresti all'infinito? Dirty Dancing, uno di quei film che mi sono rimasti dentro. Qual è la canzone che più ti dà la carica prima di una partita? Vivi l'avventura di Biagio Antonacci. Ce ne canti un pezzetto? Ti prego. Vivi l'avventura, vivi l'avventura che hai. Non aver paura, non aver paura del poi. Sei nata a Bergamo? Saluta i tifosi azzurri in dialetto bergamasco. Ciao, stec, va salire tec.